ciao fragoline nuovo video come reggete dal titolo dopo tanti mesi che non registro questa tipologia di video praticamente ho finito un po di prodotti in questi mesi ovviamente non dato che io uso prodotti che non finisco praticamente dieci prodotti in un mese perché non sono così ci vuole un bel paura che finisco i prodotti per cui ho pensato che dopo tre quattro mesi vi faccio vedere i prodotti finiti e come mi sono trovata dato che sono tanti vi dico se sono ottimi se ve le consiglio eccetera così vedete voi se comprarli oppure no prima però di iniziare questo video io vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina lasciarmi un like così ne farò altri e seguirmi su instagram che li metto tutto anche le cose che compro prima che ve le faccio vedere su youtube in poche parole iniziamo e vi faccio vedere che prodotti ho finito i primi prodotti che ho finito cioè i primi prodotti che vi faccio vedere sono questi due l'ho finiti dopo due mesi più o meno più o meno allora l'altro lo sto finendo per cui me ne manca un po l'altro però è lo shampoo che però quello ve ne parlerò diciamo quando lo finisco adesso vi parlo di questo della garnier air food anguria io ho preso il kit su amazon l'ho pagato 13 euro in promozione e ho preso il balsamo la maschera per i capelli e lo shampoo per cui adesso vi dico che sinceramente pensavo che erano prodotti cioè almeno l'anguria era un ottimo prodotto che mi soddisfava invece stranamente non mi è piaciuto in senso che forse l'unica cosa che mi è piaciuto di più è stata la maschera cioè questa perché questa ovviamente si è sentita in poche parole l'odore perché sa di anguria e ha un odore molto buono i capelli li li teneva puliti dopo due tre giorni con questa e erano erano belli diciamo morbidi invece con il balsamo e lo shampoo che sto provando sinceramente non mi sto trovando bene mi è piaciuto di più la maschera perché questo qua l'ho messi su ma dopo due giorni come se i capelli non erano tanto puliti diciamo per cui non mi è piaciuto e anche l'odore sinceramente quando lo usavo non è che era tanto così buono per cui ho provato farle tutte e tre non mi piaceva è l'unico che mi ha colpito di più e questo qua direi che quello che mi è piaciuto di più della garnier è stato aloe vera quella è una bomba e quella ve la consiglio questi qua così così non mi sono piaciuti diciamo come l'allora è vera per cui forse questo qua la maschera ve la consiglio di più ma questi due prodotti shampoo e balsamo secondo me non ne vale la pena vi dico solo questo poi passiamo a questo prodotto della lavatrice che si chiama mazzi tratte questo l'ho acquistato alla lidl costa 3 euro è di 2,2 litri il profumo è ottimo è buonissimo infatti l'ho finito mi si è anche rotto il tappo qualche parole questo qua i vestiti li lascia belli profumati si sente proprio l'odore di vestiti profumati per cui io allora c'è il blu e rosa non so che cosa cambia tra il blu e rosa però dato che sono curiosa di prendere anche quello blu tanto costa 3 euro proverò anche proverò anche quello blu e vi farò sapere io so solo che questo con 40 lavaggi mi sono trovata bene e è ottimo come il prodotto per cui ve lo consiglio se è andata la lidl prendetelo perché è veramente ottimo poi passiamo alla mitica recensione della vet questa qui ho fatto che mi è piaciuto tantissimo allora vi dico che la vet è ottima la migliore sinceramente solo che preferisco la crema normale la crema normale che questa acqua a spray perché questo spray appena lo metti sulle gambe sinceramente a parte che ne esce un bel po ma poi non dura niente per cui dopo aver fatto gambe tutte e due le gambe le braccia e ovviamente dove dovete metterla sinceramente io dopo l'ho usata neanche due giorni e l'ho già finita invece con la crema normale che è di mi sembra 200 ml io ce l'ho ancora lì e la sto usando per più di una settimana anche di più invece questa è durata poco per cui sinceramente con lo spray non lo ricomprerei ma comprerei ovviamente quella alla crema normale per cui vi consiglio la vet perché la migliore ma non vi consiglio di prendere lo spray perché dura poco questo è il mio consiglio però io mi sono trovata veramente bene poi passiamo a questo che è la leason form detersivo igienizzante questo igienizza non è male l'unica cosa che preferisco la dash che questo forse per l'odore per non lo so però questo si è buono ma non mi ha colpito così tanto per dire wow c'è però se volete prenderlo io ve lo consiglio perché non è male come prodotto è buono perché vi igienizza poi passiamo a tre cose che non ho mai fatto vedere e allora ho pensato dovrebbe essere utile per voi per voi donne dato che ho visto che su youtube non le fanno vedere e tantomeno non li mostrano per cui ho detto provo li mostro io se siete interessati a questi prodotti fatemelo sapere e se volete potrò fare anche un video parte dove spiego che cosa preferisco io comunque io sto parlando degli assorbenti in poche parole o tre pacchi diversi o degli assorbenti finiti allora con questo l'ines cotone della lines praticamente non è male ma non mi trovo tanto bene con questo per cui per me è un no perché gli assorbenti non sono tanto comodi su questo genere di lines cotone in poche parole per cui per me cioè io non lo ricomprerei perché l'ho solo voluti provare ma non mi trovo bene con quelli invece con questi qua ultra seta sempre della lines questi qua che assorbono e in più hanno l'odore questi sono ottimi infatti io come vedete lines e lines seta queste sono le marche che io prendo di più perché questa vi assorbe tanto e non vi sporca ed è ottima si costa tanto ma ne vale la pena perché io uso solo lines e questa è fantastica ve la straconsiglio invece questa qui io la uso per per l'odore perché così almeno se siete in giro avete diciamo abbondante con questo vi aiuta che non vi puzza tanto per cui questo ve la straconsiglio io uso questi due di marche e mi trovo bene con quelli quelli sono veramente ottimi per cui sono promossi se volete un video dove vi parlo su questa cosa e quale prodotto uso e quale vi posso consigliare fatemelo sapere qui sotto nei commenti così vi dico tutto sia sugli assorbenti dato che vedo che nessuno ne parla e secondo me può essere anche utile per le ragazze o per le bambine che sono diciamo non sanno bene come funziona però non sarebbe male come idea iniziamo con altro sacchettino io ho detto tutto qua dentro perché se no ciao vado più veloce allora ho finito il mio mitico dentifricio della colgate con i cuoricini mi sto trovando bene ed è ottimo peccato che lo fanno solo a san valentino e ho girato dappertutto ma non c'è diciamo poi promossi anche le salviettine della royal paris questi qui sono 25 salviette viso e occhi pelle secche sensibili mi sono trovata bene perché sono leggeri e riesci a struccarti bene per cui io ve li consiglio infatti quasi quasi prenderò solo questi costano un bel po però sono ottime come salviettine io l'ho provata e mi sto trovando bene per cui credo che comprerò ancora queste e forse userò solo quelli ho trovato forse diciamo le mie salviettine ideali poi questo invece me l'ha regalato un mio 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 sensibile l'odore anche questo è buono mi sono trovata bene però ovviamente credo che cioè io non ho mai visto qua nelle mie parti per cui dovrebbero vendere solo infatti qua c'è scritto napoli per cui credo che lo vendono solo al sud e qua io non l'ho mai visto da me però è buono ve lo consiglio se per caso voi ce l'avete prendetelo poi questo invece bocciato questo qui è uno shampoo secco che si usa senza acqua per quando voi avete fretta che non potete lavare i capelli spruzzate questo e i capelli come se sono diciamo puliti non mi sono trovata bene perché quando lo metto su mi si appiccicano i capelli si attaccano e mi dà un fastidio per cui sinceramente è bocciato io ne ho ancora un altro però lo devo finire ma non mi trovo bene ed è sinceramente proprio bocciato per me poi ho finito questo qua per le unghie il solvente questo vabbè 99 centesimi non c'è niente da dire perché è buono è il migliore non so perché c'è un un goccio comunque è ottimo e vado veloce poi ecco quello che vi dicevo prima io preferisco questo il tubo di 200 ml mi dura di più ed è veramente ottimo preferisco questo qua che lo spray per cui questo è promosso è il migliore ve lo consiglio poi questo è la scatola del profumo del vittoria secret sinceramente non è che mi sto tanto trovando bene specialmente questo che ha la rotellina che voi mettete diciamo o nel collo sotto le scelle è scomoda come profumo e l'odore è così così però poi ve lo farò vedere però il perché è molto carino volevo farvi vedere questo poi questo invece promosso è praticamente mercy handy che è una marca ottima questo qua è al aloe vera lo applichi in faccia e poi dopo lo sciacqui è ottima e mi sono trovata veramente bene per cui questo ve lo consiglio se per caso lo volete prendere alla sephora prendetelo perché ottimo io mi sono trovata bene infatti poi lo comprerò più avanti poi altre salviettine queste due sono diverse queste è della cn salviette struccanti bocciato non mi piace come sono fatte le salviette perché ci sono salviette pesanti che quando ti strucchi pesano cioè sono troppo è troppo pesante la salvietta preferisco quella leggera per cui questo mi sono trovata bene ed è bocciato non mi piace questo è ottimo ve l'ho fatto vedere l'altra volta è ottimo e questo qui l'ho preso dai cinesi questi qui sono ottimi per cui questi li comprerei di nuovo poi questo mi sono trovata bene ed è ottimo di frank provo con olio di cocco questo qua ve lo consiglio vi lascia i capelli morbidi lisci e non vi appesantisce il capello questo è di 750 ml 5 euro ma ne vale la pena provatelo perché io mi sono trovata bene ed è veramente ottimo anche l'odore è stra buono quando lo mettete sui capelli si sente per cui io ve lo consiglio perché questa marca sinceramente ottima e ne vale la pena spendere 5 euro solo per diciamo questo poi passiamo questo della glade che dura fino a due mesi anche questo non c'è niente a dire è ottimo mi sto trovando bene le profumazioni le sto provando tutte e questo qua non è male perché è buona l'unica cosa che forse è leggermente un po fortina come come odore però secondo me la marca glade è ottima e infatti io la sto usando mi sto trovando bene come profumo per il bagno eccetera passiamo a questi che così 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 non c'è questo era un campioncino l'ho provati ma adesso ce li ho lì li sto provando perché ho preso la scatola grande però sinceramente non mi sta piacendo perché la saldietta è pesante e per struccarmi ci vuole un po sinceramente per cui no non fa per me passiamo al mittico prep che è ottimo questo non manca mai ho preso anche l'altra versione di aloe vera questo mi aiuta tantissimo specialmente la mia pelle diventa sempre rossa e ho delle macchie per cui questa con l'irritazione è ottima non c'è niente da dire costa sui 3 euro è ottima ve la consiglio prendetela per chi ha problemi come me chi ha la pelle sensibile poi nivea questo quello spray 48 ore non è male è ottimo mi sono trovata bene anche con questo per cui è un campioncino perché l'ho usato per quando sono andata cioè l'ho comprato quando dovevo andare al mare quest'anno ma poi alla fine l'ho usato per casa e però mi sono trovata bene ed è buono anche questo questo qui non me lo ricordo perché sono passati un bel po di mesi però sì abbastanza diciamo che la yes rocher non li sto più comprando i prodotti della yes rocher perché non mi stanno piacendo così tanto per cui non li sto più comprando ho provato questa crema qua che ho trovato sul calendario l'anno scorso questa qua non è male sa di sa di mandarino e ha un odore ottimo per cui non è male questa crema solo che ho visto il prezzo e costa un po troppo per cui cioè è buona ma come prezzo poi questi qua è la palette per correttore palette correttore non è male ma ci sono certi certi ad esempio questi qua che a me non vanno bene sul mio colore sinceramente ho avuto un po di difficoltà perché il colore era troppo forte per cui non lo vado a ricomprare però era carino alla palette della questa della wicon però va bene solo per chi ha diciamo un colore un po più scuro e non chiaro come il mio poi passiamo agli ultimi tre prodotti finalmente abbiamo finito allora questo l'ho provato ma non mi è piaciuto è la base è un campioncino base prime 24 ore della sephora non mi è piaciuto sinceramente per cui no grazie non lo prendo ho finito questo qua che mi sono trovata bene lo smalto di cinesi era verde e il colore era bellissimo peccato che poi si è seccato è finito e giustamente però potrei comprarlo di nuovo perché è ottimo come smalto e poi l'unica cosa che devi applicarlo due volte perché si vede poco sulla prima applicazione si vede pochissimo poi passiamo al correttore ea questo mascara della yes rocher volume estra questo con lo scovolino praticamente fatto così questo come durato un bel po mi sono trovata bene e ottimo come mascara per cui questo qua ve lo potrei consigliare però sinceramente delle cose della yes rocher come marca non lo so forse l'unico e mascara questo qua che mi sono trovata bene ma su tutti gli altri meglio di no e per finire questo correttore di cancellità della maybelline io uso lo 03 che ha lo scovolino praticamente fatto così l'applicazione è facile da applicare sinceramente è una bomba e io da quando ho scoperto questo uso solo questo correttore perché mi aiuta e in più a cioè il colore è uguale alla mia pelle ed è facile da applicare per cui è ottimo e io ve lo consiglio provatelo perché io mi sto trovando bene e io adesso uso solo questo e uso solo questo di correttore finalmente i prodotti sono finiti questo video non so quanto è durato spero che non è durato l'eternità i rumori che sentite tipo russare eccetera è perché il mio cane sta dormendo qua nella cuccia e allora giustamente fa rumori eccetera e sentite solo con lui c'è solo lei che russa e fa casino per cui scusate se non ve l'ho detto prima comunque spero che questi prodotti vi siano piaciuti fatemi sapere se le avete provate anche voi o se volete provarli fatemi sapere se vi piace questa tipologia dove vi faccio vedere i prodotti se come mi sono trovate se sono ottimi detto questo noi ci vediamo al prossimo video e io vi saluto qui ciao